le nostre quattro ruine arrivano sul ponte di comando fanno fuori assaltatori ufficiali il moff non è in plancia ma in prigione con grogu con la dark saber accesa il povero piccolo che li ha manettato e il realista dice ma guarda io ho tutto ho preso il suo sangue lo abbiamo dato il suo sangue riporterà ordine nella galassia primo ordine ordine finale di nuovo la parola d'ordine è proprio ordine gioco di parole assurdo scusate per far tornare in vita di nuovo palpatine quindi grogu il donatore clonazione ci lasciano degli indizi ma è comprensibile che vogliono arrivare a ciò moff gideon sa tutto dice ah si è arrivato qui con loro bo katan che vuole la dark saber c'è questa apertura di dialogo mando fa guarda io voglio solo il bambino tieniti la dark saber gestiscila tu con bo katana a me non interessa quindi sembra quasi sembra perché poi anche io voglio dire guarda che infame moff gideon ora lo attacca alle spalle ed è quello che succede finalmente dean versus gideon lancia di beskar contro dark saber io da quando ha preso la lancia di beskar ho detto ci sarà il combattimento quindi questa scena mi è piaciuta per essere una serie tv mi ha fomentato io ero veramente a bocca aperta di questo combattimento e moff gideon si lascia sconfiggere non solo si lascia sconfiggere si arrende si fa manettare quindi lui diventa prigioniero di dinjarin di fatto dinjarin ha vinto moff gideon si è reso a lui l'arma appartiene amando a dinjarin qui quindi nasce un dibattito perché arriva in plancia con grogu e la dark saber accesa e bo katani fa che cosa hai fatto e guarda ho salvato il bambino e se la ride moff gideon se la ride perché lui lo sa gli fa no che cosa hai fatto con la spada allora din fa no guarda tienila a me non interessa tienila è tua e moff gideon fa guarda che il potere della spada non è nella spada di per sé è nella sua storia puoi essere pretendente al trono dinjarin può essere pretendente al trono ne ha tutto il diritto che storia è che tu la doni non puoi infatti qui c'è la differenza perché qualcuno potrebbe dire è ok ma da sabine l'ha accettata sabine era completamente diversa perché sabine la spada oscura la trova su datomir apparteneva a maul sabine la prende non ha mai sconfitto dartmole anzi dartmole dopo muore quindi è vero che sabine ha preso la spada ma non l'ha ottenuta legalmente torna su mandalore va da sua madre che è ursula vren e qui la prende praticamente gar saxon che dice io sono il vicere il governatore di mandalore quindi aspetta me combattono sabine lo vince in duello gli mette le due spade attorno al collo gar saxon cosa dice io non mi arrendo a te per avere l'arma legalmente dovresti uccidermi sabine fa questa è la via dei mandaloriani non è più la mia ursula vren spara a gar saxon uccidendolo di nuovo la spada rimane a sabine che però non l'ha ottenuta legalmente non solo sabine è considerata una traditrice dal suo popolo quindi non può proprio avere l'arma cioè quando arriva da ursula vren gli fa guarda quella spada lì è solo un simbolo la maggior parte dei clan ti vogliono morta per tradimento non ti salverà un simbolo è inutile che tu porti qui la spada non può proteggerti quindi sabine non avrebbe mai 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 potuto essere l'erede al trono perché lei ha creato questa arma e i generatori di impulsi arc che cosa faceva creato questa arma che praticamente tutti quelli che indossavano il beskar quindi il metallo mandaloriano con quest'arma attivata le placche di beskar cominciavano a riscaldarsi e uccidevano prosciugavano scioglievano disintegravano chiunque indossasse il beskar e l'impero cosa ha fatto sabine studiava nell'accademia imperiale quindi ha creato quest'arma per l'impero non sapendo l'avrebbe usata veramente contro i mandaloriani guarda che bello abbiamo quest'arma a voi dissidenti mandaloriani attiva il propulsore generatore a impulsi arc attivalo gli stormtroopers o chiunque abbia delle armature non di beskar vive quelli che hanno il beskar il punto forte mandaloriano rimane solo l'armatura muoiono l'ha creata sabine sabine non solo se ne va dall'impero non può tornare su mandalor perché è traditrice cioè nessuno si inchinerebbe mai a sabine non importa che abbia la dark saber lei è traditrice non può possederla non l'ha neanche avuta legalmente qui lo vediamo in re ebers bucatan era la reggente quindi lei di diritto governava mandalor è arrivato l'impero i saxon l'hanno tradita gar saxon è diventato il governatore di mandalor nonché vicere imperiale quindi saxon comanda mandalor ma la maggior parte dei clan nonostante obbediscano credono che ancora la legittima sovrana di mandalor sia bucatan quindi tutti si riunirebbero lei non mi arrenderò a te vi ho rimesso infatti la frase perché qui ragazzi diventa difficile mi rendo conto per voi capire per me spiegare perché vogliamo essere nella cultura mandaloriana che è molto a livello un po feudale ma anche di clan quindi ci sono delle regole interne delle regole molto se vogliamo a modi sovrano di erede diventa un attimo arduo però per capirci facciamo un parallelismo semplice che mi è venuto in mente ora io sono re sono re per diritto la corona è un simbolo se io do la corona al mio giullare ugualmente il popolo non riconoscerà mai il mio giullare come re la dark saber è lo stesso è un simbolo come dice ursula vren dipende dalla sua storia come dice moff gideon ok se io sono il legittimo pretendente al trono è come avere la corona conferma che sono re perché bucatan durante le guerre dei croni durante rebel si era la legittima erede qui bucatan continua a dire devo riavere il trono quindi l'ha perso non è più legittima erede al trono già questo cambia tutto cambia perché la poteva accettare la dark saber mentre qui non può più perché qui lei vale quanto dinjarin allora qui vi ho messo la frase se volete rivedervi l'episodio di rebers praticamente saxona perde in duello sabine spegne le spade fa questa forse la maniera mandaloriana ma non è la mia almeno non più con questa frase sabine sta dicendo io non sono una mandaloriana io non seguo alla lettera questo codice ok ho l'arma ma solo per consegnarla tant'è che alla fine dirà bucatan io ho trovato quest'arma solo per portarla a te la legittima sovrana è bucatan tieni questa aspetta a te io l'ho trovata non sono il suo possessore non l'ho vinta in duello saxon è morto mole è morto non appartiene a nessuno quindi appartiene a colei che ha unito ugualmente i clan e i clan erano uniti dalla resistenza mandaloriana quindi la dark saber diventa simbolo ok la conferma sei già regina diciamo sei già leader della resistenza ti do la corona questo è perché è possibile con la grande purga mandaloriana c'è stato un casino ovvero non sappiamo ancora come sia avvenuta però mandalor è stato distrutto il trono non si sa a chi è andato probabilmente non esiste più tutti i clan non hanno più avuto fiducia in bocatano comunque sono dispersi quindi bocatan non è più le ride deve riconquistarselo deve riconquistarsi il trono e la fiducia dei clan in quel momento la dark saber diventa proprio un simbolo perché non c'è più un re identificato no serve uno proprio che la corona dinjarin anche lui è un mandaloriano segue la via non è come mole che uno straniero ha vinto la dark saber in duello moff gideon si è reso lui quindi ne è legittimo possessore in più a differenza di sabine non è un traditore è un mandaloriano comunque quindi su questo piano ora legalmente ha la stessa probabilità di bocatan di essere il futuro re cioè non può dire no non lo sono i mandaloriani i clan sono divisi sono dispersi ma seguiranno il più forte quindi per riunirli serve il più forte colui che legittimamente ha vinto la spada nera quindi il fallimento che bocatan ha compiuto nella purga probabilmente lei si è addirittura resa a gideon pesa perché lei non gode più di alcun prestigio non è come rebels che tutti aspettavano il suo ritorno che lei era legittima ma no lei è una mandaloriana qualunque in questo momento quindi ha bisogno dell'arma per riavere il trono senza non si può qui infatti c'è addirittura la gerarchia della dark saber se vogliamo proprio vederla perché nelle guerre dei cloni pre visla era dei visla tarre visla quindi apparteneva a lui primo colpo di stato mandalor io comando sono il capo di tutti i clan maul vince la dark saber appartiene a me sono uno straniero non posso unire i clan quindi non ho il diritto di governare su mandalor bocatan braccio destro di visla sorella minore di satine della precedente duchessa è la prossima reggente infatti i jedi finita l'assedio su mandalor dicono no da ora in poi sei tu la reggente di mandalor rimane per poco era imperiale bocatan quindi reggente di mandalor non ha la dark saber perché è sparita non si sa l'aveva maul l'ha lasciata su datomir nessuno per anni anni sa dove sia la dark saber quindi legalmente comunque bocatan è reggente di mandalor non rispetta e gli ordini di palpatine quindi gar saxon la tradisce e lui diventa il governatore perché mandalor è protettorato imperiale legalmente è lui che comanda la dark saber non ce l'ha ne ancora è persa è sempre su datomir muore maul muore gar saxon sabine ha trovato questa spada guarda ho trovato la spada nera so di essere una traditrice voglio riuscire a ripulire il mio nome la do a chi ne ha diritto quindi a bocatan guerra civile legittima sovrana di mandalor tutti i crani si uniscono attorno a lei per combattere la grande purga questo era il riassunto meglio di così ragazzi e della spada io veramente non so spiegarvi io spero che sia arrivato il concetto quindi mentre in plancia discutono su questo discutono sulla dark saber che din jarin come lo spettatore non capisce niente fa ma scusa è una spada qualsiasi mof gideon intanto se la ride perché è divertito da ciò lui lo sapeva ha sconfitto i mandaloriani perché sapeva della loro cultura quindi è riuscito a batterli sul campo di battaglia durante la grande purga e se la ride perché fa voi state qui a perdere tempo sì ti ricordi i dart troopers che hai iettato all'esterno è stato facile distruggerne uno non sembra ora c'è un plotone che sta arrivando allora il gruppo chiude le porte anti blaster che è un richiamo episodio 1 la minaccia fantasma quando i nemoidiani chiudono la porta anti blaster per fermare i jedi e qua i gongini inizia a tagliarla e fa no loro possano lo stesso quella scena lì che è iconografica secondo me per il doppiaggio non per altro quindi sono tutti lì in plancia che aspettano e i droidi ancora la terminator cominciano a sfondare questa porta anti blaster sembra finita ma ecco un altro allarme un ala x e lì subito detto eccolo è arrivato è il yoke skywalker per forza lui arriva all x wing loro guardano dagli schermi e vedono questa scena che è pari pari a quella roguan di darth vader bellissima un'emozione unica bravo trampot che ci avevi azzeccato e grogo appena vede arrivare il yoke si mette lì allo schermo perché lo ha riconosciuto infatti quando su typhon era dentro il vento della forza che c'era mando che gli urlava stanno arrivando dobbiamo andarcene e grogo non sentiva quasi certamente lui telepaticamente ha parlato con yoke come ha fatto con asoka in quel momento stavano parlando telepaticamente tant'è che quando arriva yoke lo riconosce come se avessero già parlato per l'appunto lo spettatore non lo sa noi sappiamo comunque che è possibile parlare telepaticamente attraverso la forza yoke lo ha già fatto in episodio 5 con sua sorella leia qui con grogo era addirittura in questo pietra veggente incanalatrice quindi è assolutamente quasi certo che lo abbia fatto aveva un comunicato grogo non so cosa gli abbia detto però yoke è riuscito a percepire la sua forza a capire la sua risonanza quindi a raggiungerlo sulle incrociature di moff gideon padre e figlio qui è bellissimo perché abbiamo praticamente una iconografia una simbologia ovvero grogo arriva in braccio a dinjarin e gli chiede di rimuovere l'elmo di vederlo in faccia finalmente dinjarin se lo toglie è commovente è bellissimo ma non solo è proprio il simbolo di farti capire sono padre e figlio perché anakin con luke skywalker si toglie l'elmo per vedere il figlio con i suoi occhi an solo e ben solo an che chiede a kylo ren togliti l'elmo voglio vedere in faccia mio figlio grogo il figlio adottivo che chiede al padre di togliersi l'elmo per vederlo in faccia questa simbologia è molto profonda e richiamo è bellissimo con grogo che come an solo tocca la faccia del padre la faccia paterna attenzione ai dettagli qui ve l'ho messo perché effettivamente ai battlefront 2 che avviene quattro anni prima di questo episodio di mandalorian c'è luke che gira con r2 e il suo x-wing quindi è perfettamente coerente sono riusciti a incastrare benissimo la lore nonostante solo una cosa un dubbio che mi è venuto ovvero nel fumetto di kylo ren dicono che ben solo è stato il primo apprendista di luke quindi grogo non è detto che luke lo addestrerà r2 e grogo anche qui bellissimo perché c'è grogo che si attacca alla gamba di dinjarin lo guarda in volto luke che capisce che sono quasi padre figlio infatti guarda dinjarin e fa che la forza sia con te questo modo per dire io mi occuperò comunque di lui non è abbastanza forte per proteggersi non ti preoccupare in buone mani ma anche grogo è l'elite tubante e arriva r2 r2 che è un simbolo per me per tutti i bambini che hanno visto il prequel la trilogia originale che adesso sono un po più adulti nel sequel ha preso il suo posto bb8 se vogliamo e invece r2 purtroppo lasciato da parte qui ripreso ed è lui che arriva e si inchina grogo c'è questo rapporto r2 simbolo per i bambini che hanno adorato la galassia di star wars e qui convince grogo ad andare con loro si guadagna la sua fiducia tra l'altro povero r2 che pensandoci poi lui ha conquistato la fiducia di anakin skywalker fin da bambino per l'appunto erano insieme dopo la battaglia di nabu quando festeggiavano la vittoria erano insieme su mustafar quindi ha visto il declino del cavaliere jedi ha visto la nascita di luke e leia vedrà la morte di leia quindi questo personaggio è importantissimo r2 vedrà anche insieme a luke skywalker la caduta del tempio jedi quindi il tradimento di ben solo r2 di due nell'idea di george lucas avrebbe dovuto comunicare ai wills questa storia della stirpe skywalker quindi le scritte il crawl iniziale effettivamente era r2 di due che lo proiettava per raccontare a questa specie la storia degli skywalker ci sta perché quello che ha visto di più che ha seguito di più quindi bello che lo abbiano mostrato e soprattutto fatto in questo modo quindi il finale qui si chiude in modo abbastanza aperto molto aperto perché dinjarin è legittimo erede al trono di mandalore lui ha la spada non c'è nessun altro erede anzi mandalore il trono forse non c'è più quindi bisogna riunire i clan chi è la darsaber a questo punto riunirà i clan quindi si apre la parentesi politica della terza stagione secondo me interessante di mandalore mandalore i mandaloriani dove saranno schierati nuova repubblica a sé andranno a creare una nuova società nelle regioni ignote una nuova mandalore nei sequel non li vediamo quindi c'è da capire anche questo che fine fanno i clan i lialisti vero che hanno catturato il dottor persing vero che hanno catturato il moff gideon ma hanno il sangue di grogu che è arrivato e lialisti al cultisti sit quindi gli sperimenti degli strand cast quelli che creeranno snook il figlio di palpatine e per l'appunto terranno in vita lo stesso imperatore stanno davanti l'impero non ha perso totalmente perché il sangue quello che gli serviva l'ho ottenuto boba e fenne che hanno rispettato il loro patto con dina quindi ora possono riabbracciare il loro credo da cacciatore d'italia e infatti alla fine c'è l'ottimo cliffhanger finale cara di un ora può consegnare le sue prede gideon e il dottore alla nuova repubblica quindi verrà ricompensata bene e soprattutto potrà consolidare la sua posizione da sceriffo perché catturato due importanti elementi comincia inoltre il viaggio di grogu e di lyuk nel nuovo ordine di lyuk che sta nascendo ma che ufficialmente nasce tra cinque anni con il primo apprendista ben solo quindi anche qui che strada seguiranno che cosa ne sarà di grogu aperto anche questo finale molte strade molti spin off che infatti sono pronti all'orizzonte il libro di boba fett è il primo spin off è bellissimo perché non ci sono gli artwork finale e io mio fratello eravamo gli a dire qualcosa non torna aspettiamo aspetti c'è la scena finale il palazzo di jabba veat su tatooine bib fortuna che ora praticamente ha preso il trono di jabba quindi comanda lui si presume tutti i vari loschi di tatooine arriva boba fett mi prendo il trono di spade quindi se dall'altra parte la dark saber rappresenta per il trono di mandalore si è preso il trono dei criminali di tatooine quindi probabilmente diventerà il leader di questa nuova società di cacciatori d'italia eccetera eccetera sarà più un cartello criminale forse ma il libro di boba a me viene in mente per l'appunto il credo di boba fett che era un libro sui cacciatori d'italia in cui veniva spiegato un pochettino proprio il credo di jaster potrebbe essere qualcosa del genere sarà uno spin off prodotto da john favreau da dave filoni e da rodriguez quindi mi aspetto una bomba uscirà a dicembre 2021 non sappiamo bene quando prima però di the mandalorian stagione 3 che a questo punto se porta avanti i mandaloriani lo chiamerei mandalorians con la s i mandaloriani perché credo che mai bo katan sia in squadra insieme agli altri non puoi scenderli vediamo quindi questo nuovo spin off con protagonisti fennec e boba vediamo un pochettino le vostre domande quindi allora ho quella di giuseppe che mi ha scritto in privato mandalorian colma molti buchi di trama presenti nei sequel questa strada mi sta facendo rivalutare la nuova trilogia pensi che proseguendo possa darle più valore dopo mandalorian anche tu digerisci meglio i sequel allora giuseppe ni ovvero i sequel li prendo singolarmente quindi le critiche che ho fatto ai sequel rimangono tali facciamo così è come acquistare i sequel come se fossero un paio di jeans costoso li compro li metto non calzano bene gli mancano le tasche sono pieni di buchi di difetti devo andare dal mio sarto che è molto bravo fa guarda ti metto io la tasca ti rattoppo un po alla fine posso indossarli ma comunque mi dà fastidio che quando li ho comprati non fossero completi quindi per il sequel di star wars direi che lo stesso ora c'è favro e dei filoni che sono ottimi sarti stanno rattoppando mi piace perché a livello di lore globalmente posso iniziare a parlarne a capire qualcosa come si sviluppa la trama ma comunque dovevano farlo dall'inizio paolo ciao la mia domanda emilio nella prossima diretta è perché se bokatan non estremista non accetta la dark saber da mando e perché il rebes non si era fatta problemi ad accettarla da sabina esattamente per come l'ho spiegato perché la era legittima erede al trono quindi la spada era solo un simbolo aggiuntivo in più non apparteneva a sabina l'ha presa perché era di passaggio da una che l'ha trovata alla legittima sovrana quindi la legittima erede al trono ora non c'è un legittima erede al trono quindi serve un simbolo serve la dark saber serve la corona per identificare quale sarà il futuro re il futuro sovrano trumpot meglio questa stagione o la scorsa gli uccheregni che volevi vedere io sì penso anche te esattamente a trumpot gli uccheregni che volevo vedere sì io volevo in questa versione anche nei sequel quindi mi è piaciuto tantissimo avrei voluto vedere di più ma come dart veder in roguane il minutaggio è perfetto ti entusiasma a dovere meglio questa stagione o la scorsa non lo so diciamo che hanno avuto entrambi dei difetti questa ha avuto il episodio 9 quello su tatooine capitolo 9 che era citazione ad una è molto apprezzato ha avuto molto fanservice talvolta forzatino altra più equilibrato non lo so non saprei neanche io valutarlo hanno entrambi pro e contro la prima aveva un budget ridotto era più un esperimento qui con un budget maggiore ci sono anche spinti hanno fatto quella conclusione con boba fett un po alla marvel quindi titoli di coda poi il libro di boba fett arriverà dicembre stanno si stanno spingendo oltre hanno rischiato di più forse in questa devono cambiare completamente stile narrativo nella terza stagione se no inizia a stufare quindi spero che vadano più sulla politica hanno tolto grogu mossa coraggiosa se davvero lo hanno tolto magari torna però nelle prime puntate non ci sarà per cambiare la struttura narrativa non credo ci sarà più mi sposto da da b qualcosa di diverso più solido vabbè batch mostrerà il passaggio da bo katana e saxon cero targaryen spero molto di sì non credo immediatamente magari non prima della della seconda stagione ma è possibile anche nella prima dipende quanti episodi saranno se ne fanno poche come l'ultima di the clone wars forse non ce lo buttano come arco narrativo però è lì lì dice che praticamente all'inizio quindi non mancherà tanto se non capita nel primo anno capiterà nel secondo io spero di sì quindi di vedere assolutamente il passaggio da bo katana dai cries a gar saxon perché è importante e dato che in era imperiale inizio era imperiale non possiamo perderci anche perché è un forte collegamento a rebels che all'inizio bo katana erede al trono gli porge subito sabine la spada fa no non me la merito perché io ho avuto la mia occasione di regnale l'ho persa era tale il popolo comunque sempre stato con lei astro imperiale luke potrebbe solamente addestrarlo per autodifesa quindi non prenderlo come padawan potrebbe essere potrebbe essere così o potrebbero dire che comunque grogui ancora un youngling quindi effettivamente finché sei gli angli non ti prendono come padawan devi avere una certa età devi sapere usare le spade laser eccetera eccetera quindi non essendo padawan il primo padawan effettivamente rimane ben solo radioattivi dottor persing che studiava grogu perché ha sbugiardato quello che resta dell'impero pensavo che venivano manipolati dall'impero e anche lì ma perché dottor persing da quanto ce l'hanno mostrato fin dalla prima stagione non è uno che ha molta spine dorsale arrivava mando no no non uccidermi prendi bambino e portalo via anche qui ogni volta che c'è qualcuno non è un uomo d'azione quindi sembra un po' quelli un po' larve che fanno le cose senza essere controllati perché lui era fiero anche nell'ulogramma diceva ah ho guardato il sangue del bambino è pieno il suo valore m è altissimo ed era fiero a dirlo quindi non è che gli puntavano una pistola alla testa però quando poi arrivano gli altri sembra quello che sempre dice no no guarda io non ho fatto niente il lavoro e basta quelli che vogliono pulirsi la coscienza in quel modo esatto Starlight Eo lo stile di Luke si è evoluto perché in questo percorso che già lo vediamo in Battlefront 2 lui combatte cinque anni che sta andando in giro è più simile dal padre usa un po' la forza un po' la spada ha cambiato uno stile proprio che è molto interessante da vedere rende quella scena d'azione bella secondo me quasi al pari di quella di Rogue One con Vedere quella per ora è ancora al top secondo me però ce l'hanno fatta fare un buon richiamo ah Diego è vero prima di chiudere la CGI di Luke mi è piaciuta fino a un certo punto ovvero hanno usato un attore giovane che ha 29 anni hanno rimpiazzato il volto come fatto in Rogue One con la principessa Leia quindi hanno messo questo volto Mark Hamill a dare la voce eccetera eccetera bello ci sta però anche qui per la fretta un po' per il basso costo perché comunque ripeto è una serie tv che per quanto possa avere il budget elevato non sarà mai quello di un film quindi concordo con te Diego certe volte quando eri lì che si muove sfarfallo un po' lo vedi ci ho chiuso volentieri un occhio poi c'è da dire che essendo un servizio digitale come hanno cancellato gli errori in quello del ragazzo che si vedeva i jeans l'elicottero secondo me guarda l'hanno fatta uscire perché doveva uscire ma la sistemano la ritoccano la rivedi tra un anno sarà migliore perché ho visto molte lamentele effettivamente io guarda ci ho chiuso un occhio perché so che l'attore non è più così giovane sicuramente se lo riprenderanno sceglieranno un attore cioè molti citavano il guerriero d'inverno l'attore del guerriero d'inverno della Marvel e ci starebbe perfettamente quindi se dovranno fare cose più impegnative prenderanno a quel punto un attore da vederlo lì così guarda mi è dato un pochettino fastidio ho detto non è il massimo ma neanche mi sono lamentato troppo c'è stata dai accettabile detto ciò ragazzi miei io vi saluto metto l'elmo per l'ultima volta e guidiamo il ride a Turi grazie mille Cane Spaziale per aver guidato il ride grazie mille a mio fratello Ste grazie mille a Diego grazie mille a GS Trump e a tutti gli abbonati grazie mille a voi di essere rimasti in mia compagnia anche per questo gran finale di stagione vi aspetto domani sempre qui alle 15.30 con il signor Giacomo per parlare di The Mandalorian stagione 1 e 2 e del suo futuro ragazzi miei questa è la via grazie mille a tutti 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 Grazie a tutti.